Sono contento di affrontare un allenatore esperto, bravo e che ha scritto pagine belle della storia calcistica, quindi per me è un grande onore poter affrontare un allenatore del genere, competente e che nella sua storia ha avuto tanta coerenza perché ha portato avanti la sua idea e lo ha fatto a prescindere da tutto e da tutti, quindi ovviamente è una persona che stimo e che rispetto. In un campionato difficilissimo come questo della Serie B siamo spesso ripetitivi e lo saremo anche oggi, a maggior ragione quando affrontiamo una squadra come il Pescara che ha delle qualità grandi. Sappiamo che sarà una partita difficilissima e abbiamo voglia di confrontarci in questo test perché sappiamo che possiamo avere le qualità per poterlo fare. I numeri io non li tiro mai fuori dal contesto, siamo stati bravi a fare tanti gol, ne abbiamo subito qualcuno in più, ma se si vanno ad analizzare le situazioni che abbiamo avuto a favore e contro, proprio nel poter sviluppare dei gol o nel poterli subire, sicuramente abbiamo avuto la possibilità anche di poterne subire meno perché alcuni sono stati determinati da episodi sfavorevoli, che ripeto ancora una volta non sono determinati dalla fortuna ma sono stati determinati da alcune mancanze nostre. Vogliamo provare a migliorare perché sicuramente sappiamo che la solidità di una squadra è importante per portare avanti la continuità dei risultati e siccome l'obiettivo nostro è quello di continuare a fare risultati sappiamo che abbiamo dei margini di miglioramento grandi a partire dalla partita di domani che sicuramente sarà molto molto impegnativa. Abbiamo diverse defezioni, non saranno della partita Marrone, Delia, Bascia, Morleo e Capradossi sicuramente e poi abbiamo un altro paio di ragazzi che sono incerti se riusciamo a recuperarli o meno, Cassani che si è fermato ieri e Ciccio che aveva avuto un problema l'altro ieri nell'allenamento, ieri non si è allenato, oggi stava meglio e mi auguro di poterlo avere a disposizione perché sicuramente in un momento è capitato questo piccolo acciacco in un momento in cui stava bene, insomma dimostrato a tutti negli spezzoni che ha fatto sia contro l'Ascoli che a Salerno che è e sarà un giocatore determinante per noi, quindi mi auguro che come Mattia d'altronde possa essere a disposizione della partita. Abbiamo tante defezioni, proprio per questo la partita di per sé già difficile diventa molto molto complicata e sappiamo che Gionberg è arrivato questa mattina e quindi sarà a disposizione e Busellato dopo aver saltato l'allenamento di ieri per una colica e essere passato all'ospedale è riuscito e fortunatamente oggi era in campo. Abbiamo diversi problemini ma ho detto ai ragazzi che siccome glielo ripeto dal primo giorno questo è il momento in cui è stato importante ripeterglielo. Credo tanto nella forza del gruppo, sono stracontento quando ho tutti a disposizione perché ovviamente c'è la possibilità di fare tante scelte però in questo momento di grande difficoltà perché ovviamente abbiamo dei ragazzi importanti che non sono della gara dobbiamo avere la forza di saper fare la partita di cuore, di voglia, di atteggiamento vero sapere che possiamo e abbiamo le qualità per poter fare bene sapere che abbiamo tanti ragazzi che hanno sempre partecipato nel nostro percorso che sono fuori ma abbiamo altrettanti ragazzi che hanno partecipato meno che possono essere protagonisti di questa gara e dimostrare che la nostra forza è sì nell'individualità di ognuno dei ragazzi che abbiamo a disposizione ma è soprattutto nella forza del gruppo che è sempre più grande della somma degli individui quindi sono convinto che con l'aiuto del nostro pubblico perché ritorniamo a giocare in casa e non è mai mancato mi auguro che ci daranno una grande mano come l'hanno sempre fatto perché domani ne avremo veramente bisogno perché affrontiamo una squadra forte, difficile che ha ottima individualità, spregiudicata e offensiva però abbiamo voglia di fare bene perché sappiamo di poter avere nonostante qualche difficoltà le armi per poter essere presenti anche domani